Intanto c'è un dato, cioè che da 0 a 6 anni il Comune di Arezzo risponde al 90% della richiesta con liste di attesa di solo il 10%. Peraltro con un altro dato che ci dice che da 2 anni a 6 anni siamo già a 0 liste di attesa. L'obiettivo liste di attesa 0 per i servizi all'infanzia nel Comune di Arezzo, soprattutto nella fascia di età 3-12 mesi, potrebbe essere raggiunto prima del previsto. Ne è convinta Lucia Tanti, vice sindaco e assessora al sociale del Comune di Arezzo, che in una conferenza stampa ha snocciolato tutti i numeri di 9 anni di lavoro. Le percentuali di risposta sono del 93% per la fascia 1-6 e del 75% per la fascia 3-12 mesi. L'obiettivo liste di attesa 0 è prefissato per il 2025-2026. A rendere questo risultato possibile una serie di misure, dal buono conciliazione alla misura innovativa Startup 03 al progetto Genitori Protagonisti. Vi sono delle novità sia per il bonus conciliazione, cioè per quelle famiglie che ancora poche ma significative, ognuno giustamente sente il suo, si dice in questi casi, sono fuori dai servizi. Ci sarà un bonus fino a 2.000 euro per quelle famiglie sotto i 35.000 euro con entrambi i genitori occupati, che sono solo 10 in questo momento rispetto ai numeri che abbiamo. E poi una, direi, azione molto innovativa che si chiama Startup 03, cioè un contributo a fondo perduto fino a 6.000 euro l'anno per quelle professionalità del settore educativo che intenderanno aprire un nido in questa città accreditato rispetto al Comune. Fino a quattro persone o professionisti che intendono fare questa operazione, il che ci permette di mettere nel servizio altri posti, raggiungendo questo tema e questo obiettivo di liste di attesa zero, che io mi ero impegnata a raggiungere entro l'annualità 26-27 e che probabilmente con questi numeri potremmo traguardare anche un anno prima. Il tutto in una città che ha il 12% di natalità in più e il 63% di richieste in più dei servizi, il che vuol dire che pur aumentando, per fortuna, le nascite, pur aumentando le richieste, noi oggi siamo uno dei comuni in Italia con risposte più significative. Azioni concrete che si sommano al mantenimento del servizio di trasporto scolastico a domicilio per la fascia 6-14 anni e numerosi interventi nell'edilizia scolastica, oltre un milione di euro per la manutenzione straordinaria e un milione e tre per il nuovo nido Colombo. Investimenti che riguardano nuovi posti, per l'esattezza 24 nuovi posti che verranno destinati ai nidi, che abbiamo deciso di investire negli immobili del Matto e di Sitorni, in cui abbiamo realizzato 200.000 euro di interventi che saranno necessari per realizzare proprio questi nuovi spazi. Oltre a questo, nel periodo estivo, a seguito delle segnalazioni che comunque ci vengono fatte durante l'anno, abbiamo portato avanti ulteriori 874.000 euro che riguardano manutenzioni straordinarie sugli immobili che servono per dare maggior comfort ai ragazzi e agli insegnanti, ma soprattutto che danno anche una nuova veste a quelle che sono gli spazi e le scuole che vivono tutti i giorni. Quindi interventi che riguardano l'efficientamento energetico, che riguardano la realizzazione di nuove coperture, la realizzazione di nuovi impianti destinati anche all'impianto di riscaldamento, quindi tutti quegli investimenti che comunque sono necessari per dare un maggiore comfort. Ricordo che abbiamo deciso, e questo fa parte di fondi PNRR, quindi un investimento a lungo termine, di realizzare anche un nuovo nido e anche questo portando avanti una valutazione insieme all'ufficio scuole che ci ha permesso poi dopo di portare avanti questo intervento con il nuovo nido Colombo che in questo periodo sta andando avanti come da cronoprogramma e in questo caso sono 50 posti che verranno destinati proprio a questo nido che sarà completamente nuovo, una struttura in bioedilizia con sistemi di efficientamento energetico all'avanguardia che permetteranno di dare un comfort sicuramente al massimo di quelle che sono le tecnologie attuali. Grazie a tutti.